Ecco qua, Roma, zona Parioli, mamma mia, mamma mia, la neve che c'è, comincia a nevicare un'altra volta, guardate, guardate, guardate che roba. Adesso iniziate ad attaccare, eh, se inizia ad attaccare la strada sono cavoli amari, mamma mia, come farò, come farò. No, nevica, nevica di brutto. E io adesso? E come si fa? Eh, io devo andare a casa, bisogna andare molto piano, inizia la bufera, sta iniziando la bufera, ecco qua, guarda, 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 guarda qua, guarda qua, guarda, guarda qua, bisogna andare piano, piano piano, se no sono cavoli amari, qua se, andiamo a sbattere la fine. Beh vabbè, non ho parole. Adoro.